innamorare funzionava sto stai per diventare una mamma a 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Traviamo un po'. Per questa ricetta ho bisogno di un po' di purè di fragole o anche le fragole congelate. mi prendo un po' di purè di fragole e facciamo un dolce spettacolare allora il nostro purè di fragole li ho messi qua potete usare anche le fragole fresche di adesso io preferisco comunque in questo periodo di usare quelli congelati che li ho congelati nell'estate adesso li metterò sul fuoco se non li mettiamo così crudi se io li faccio adesso scongelare e li metto direttamente nel nostro dolce uscirà tanta acqua, saranno molto liquidi invece se io li metto sul fuoco a bollire per 2-3 minuti loro leggermente hanno una consistenza un po' più densa vi avevo fatto una promessa che se facevo dei corsi della cucina avrei condiviso con voi alcune cose per cui io adesso ho fatto un corso la preparazione base per le torte, dolce e salate però voglio condividere con voi qualcosa che mi ha stupito anche a me io ho già provato questo dolce è uscito molto buono un cheesecake al forno però è un cheesecake molto particolare e se noi rispettiamo tutti questi passaggi è impossibile che non riescano bene, ho imparato alcune cose nuove voglio condividere con voi allora andiamo passo con passo adesso io metto questo sul fuoco e lo mettiamo a bollire per alcuni minuti a noi ci ha fatto vedere il cheesecake con la base fatta tipo con amido di mais solo che viene tipo una pasta biscotto ecco non ho voluto condividere quello anche perché è molto più complicato tutto per cui penso che la maggioranza sono abituati a fare il cheesecake qua con la base del biscotto ci sono alcune regole da rispettare forse magari quelle che non le avete neanche mai sentite per cui prendiamo i biscotti insomma anche un biscotto che a voi piace il gusto che vi piace potete usarli io uso questi digestivi li dobbiamo frullare mettiamo dentro il nostro pistacchio amalgamiamo bene prima allora un altro passaggio molto importante è questo sappiamo tutti che per la base di cheesecake si mettono questi biscotti e il buro c'è però uno quando noi facciamo la base mettiamo il buro perché bisogna che lui fa il legame giusto per avere una giusta consistenza per fare la base però che il biscotto riesca veramente a rimanere che abbia il legame bisogna mettere tanto buro e cosa succede? quando noi mettiamo se noi mettiamo poco buro allora il biscotto si rompe non sta intero la base invece se noi mettiamo tanto buro cosa succede? soprattutto per i dolci che vanno in forno quando noi facciamo la base con biscotto e tanto buro il buro come dicevo per avere la consistenza che serve bisogna mettere più buro e di conseguenza quando mettiamo più buro quando noi mettiamo in forno il dolce il buro si scalda si scioglie e tende ad andare tutto sotto il cheesecake c'è tutto il grasso va in mezzo al cheesecake così quando noi tagliamo o mangiamo sentiamo la parte sotto molto più grassa e tutto ciò non è molto piacevole invece noi abbiamo bisogno comunque di una consistenza e facciamo questo qua ho il buro fuso e ho anche il latte ok? quando noi mettiamo un po' di latte potete aggiungere latte o succo di qualcosa che vi piace a voi basta di avere un altro liquido così noi con l'aiuto di questi due liquidi riusciamo comunque a fare una base con una bella consistenza solo che non usiamo soltanto il buro così il latte fa gonfiare leggermente questo biscotto e diventerà una base buona con una buona consistenza ma non con tanto grasso quanto buro e tutto il latte andiamo prima pian piano la base io di solito mi piace farla così un po' alla volta giusto per capire quanto burro va per cui come avete capito non mettiamo soltanto il burro ma anche il latte qua una palina e lo stringiamo vedete che lei è ancora è quasi pronta ma comunque ancora tende ad aprirsi per cui vuol dire che mettiamo un altro po' di burro e un altro po' di latte un po' di burro e un po' di latte mettiamo direttamente qua la base per il cheesecake è già pronta io adesso lo mettiamo lo mettiamo da parte o anche in frigo e prepariamo il ripieno cioè la nostra crema abbiamo bisogno di formaggio spalmabile amido di mais so che tanti usano la fecora di patate per questo cheesecake però è sbagliato perché la fecora di patate è molto forte è più forte di questo e tende ad essiccare il nostro cheesecake non esce così buono per cui abbiamo bisogno di amido di mais mettiamo zucchero amalgamiamo bene l'amido di mais con zucchero in questo modo quando noi accendiamo la nostra planetaria con le fruste questo amido di mais è che non vola via il nostro formaggio un po' di estratto di vaniglia un'altra cosa molto importante per il nostro dolce ma questo vi aiuterà proprio con tutti i dolci che voi lo farete quando noi mettiamo a sbattere adesso il formaggio o la panna o anche quando facciamo la base per le torte pan di spagna dobbiamo sbattere tutta la nostra base cioè non fatela sbattere troppo perché se noi lo facciamo sbattere troppo cosa fa? si riempia con l'aria dentro con bollicini dell'aria e quando noi mettiamo il nostro dolce in forno questi bollicini di solito cosa succede? che mettendoli in forno loro crescono cioè tipo li vedi che cresce bene e dopo si lascia cioè ti fa proprio come un buco in mezzo al nostro dolce questo è dovuto perché i nostri dolci sono stati sbattuti troppo e soprattutto con la massima velocità noi dobbiamo amalgamare bene e sbattere bene la nostra base la nostra crema con la minima velocità tra minima e media ecco non andiamo oltre neanche lo sbattiamo ma lo mescoliamo abbiamo bisogno di due torri e un uovo ecco la consistenza del nostro formaggio deve arrivare così e ve lo vediamo molto liscio l'uovo mettiamo un po' alla volta e lo mettiamo di nuovo a sbattere sulla planetaria ho messo tutto l'uovo dentro si è amalgamato bene e adesso dobbiamo aggiungere la nostra panna aggiungiamo la panna fresca finché vedete che avete più o meno una consistenza così prendo un po' di questa crema e lo metto in questo sac à poche e dopo vi spiegherò il perché io il purè di fragole l'ho messo a bollire per due minuti cos'è successo l'acqua in eccesso che era dovuta al congelamento si è evaporata e è rimasta soltanto la polpa magari non c'è qualche semi che si sente nel nostro cheesecake ok e con una frusta ecco qua solo che la fragola da sola non riesce comunque a dare un colorito molto più acceso più vivo per cui mi aiuto con un po' di coloranti questi per alimenti metto un po' di colore rosso non so più come girare la telecamera perché ci tengo insomma che capiti bene è un po' alla volta che gli diamo un colore molto più più vivace allora adesso noi la nostra crema la versiamo qua sulla nostra base perché l'ho messa in sac a poche se io lo tenevo in una ciotola e prendevo con il cucchiaio a metterla già sopra il peso ok quando mettevo dal cucchiaio allora andava più più dentro a questa rosa invece io voglio creare un effetto dove loro rimangono separati non so se mi sono spiegata ho sbagliato perché ho lasciato poca crema bianca alla fine avrei dovuto lasciare molto di più perché adesso faccio fatica però è importante che vi dico di questi sbagli così voi lo fate meglio di me provare a drizzare tutto allora mi sono dimenticata di dirvi una cosa mentre io preparavo la crema ho messo a volire un po' di acqua io adesso prendo questo cheesecake lo metto in forno e sulla telea del forno lo metto proprio sotto sotto l'acqua volente la metto dentro nella telea così il nostro cheesecake quando va in forno a cuocersi ha questo vapore di questa acqua volente adesso vi mostro tutto dentro ho messo il cioccolato nel frattempo ho messo a scaldare la panna c'è proprio bella volente la mettiamo sopra il cioccolato la panna qua il nostro cioccolato si inizia a sciogliere adesso mentre è ancora caldo aggiungiamo anche le folie di gelatina adesso facciamo questo qua mi sono già preparata di nuovo la panna da montare e lo dobbiamo montare ma non di tutto adesso vi farò vedere la consistenza vedete non è tanto montata adesso mettiamo la panna dentro nel cioccolato facciamo due parti una dopo un'altra ok adesso aggiungo un altro po' il cheesecake adesso è pronto e già l'ho messo a raffreddare prendiamo un fuon lo scaldiamo il bordino così lui si distacca il cheesecake è molto buono molto particolare la parte con la fragola vi rimane leggermente più morbida è leggermente più acida è proprio quella che fa il contrasto con la mousse al cioccolato dopo di aver messo la mousse al cioccolato sopra lo teniamo in frigo per almeno un'ora e mezza dopo lui sarà pronto se vogliamo che quando lo tagliamo rimani bello pulito il cheesecake allora è importante il coltello di metterlo in acqua calda e dopo lo tagliamo in questo modo non si sporcano le fetine a e Grazie a tutti.